Ciao a tutti ragazzi, sono Leotech e bentornati in questo video del canale. In questo video andiamo a vedere come completare la sfida che ci crede di piazzare i cartelli di benvenuto a Parco Pacifico o a Lago Languido. Ma noi in questo video andiamo a vedere come completare quella che ci crede di piazzarli a Parco Pacifico. Ma quindi per iniziare con il video, come sempre, vi voglio ricordare che se anche voi avete vincito lo skin o pass battaglia, vi basterà iscrivervi a questo canale, attivando la campanellina e aderire le notifiche. Ma detto questo, iniziamo con il video. Quindi per completare questa sfida ci basterà andare qua a Parco Pacifico. Per piazzare il nostro primo cartello di benvenuto dovremo andare esattamente nel posto in cui vi ho pingato. Attenzione che arriveranno davvero tanti, ma tantissimi, nemici. Quindi dobbiamo cercare di non farci beccare, quindi sarà una cosa molto molto difficile. Però andiamo qua, il primo cartello dovremo esattamente qua. Il secondo in questa casa qua, il secondo nella casa rossa in fondo e il secondo in mezzo a questo distributore. Quindi andiamo qua, il primo cartello di benvenuto, ragazzi, lo troviamo esattamente qua. Perfetto, uno l'abbiamo già posizionato. Poi andiamo qua dietro, come vedete, troviamo subito il secondo che si trova cosattamente qua dietro alla mappa di Fortnite. Cerchiamo di non farci ammazzare, quindi una volta che ne avete posizionate uno, senza farvi ammazzare, molto semplicemente andate qua davanti e ne troverete un altro. Esattamente qua in questo cartello, senza farvi vedere che sarà molto difficile. Una volta che ne avrete posizionati un altro, invece prendete, andate qua e appunto al centro della mappa è proprio qua che ne andate a trovare l'ultimo. Quindi eccovi qua, trovate l'ultimo al centro della mappa, cercate magari di non farvi colpire, interagite e avete completato la sfida. Quindi come avete visto è molto semplice completare questa sfida, quindi detto questo il video di oggi può anche terminare qua. E spero ovviamente che vi sia stato utile per completare questa sfida, per fare tutte le altre sfide all'interno del canale. Quindi detto questo ci vediamo alla prossima con le prossime sfide.